Il disagio che crei tu. Tu, che butti i tuoi rifiuti per strada e nelle periferie, a discapito dei cittadini che rispettano le regole, non hai rispetto per l'ambiente, hai poco senso civico, non ami la tua città. Perché? Hai a disposizione isole ecologiche ed ecocompattatori gratuiti e con la raccolta differenziata veniamo a casa tua su prenotazione e ritiriamo tutti gli ingombranti. Non fare aumentare la tassa sui rifiuti agli altri cittadini. Aiutaci per evitare la vergogna in città. Ricorda che dal 10 ottobre 2023 l'abbandono dei rifiuti è reato penale.